buongiorno buongiorno ragazzi in questo video oggi ti insegno il superman raw al trx esercizio ottimo per rinforzare tutta la parte posteriore della schiena deltoide anteriore deltoide posteriore grandorsale extra lottatori delle spalle quindi un esercizio completo come si esegue il superman raw al trx ci posizioniamo al trx andiamo a prendere il nostro trx con entrambe le mani ci posizioniamo bene con le mani una parallela all'altra e da questa posizione andiamo a elevare con un braccio tenendolo disteso e con l'altro braccio invece andiamo a tirare verso il fianco arrivando con la mano sotto al petto come se dovessi fare un raw classico un hammer classico al trx di nuovo ritorniamo in posizione bene distese e di nuovo andiamo a elevarci su quindi spingo verso l'alto col braccio bello disteso e da questa posizione cerco di andare a bloccarmi un attimo col braccio vicino all'orecchio e successivamente tornare in posizione è importante quando parti col movimento di iniziare sempre come pensiero a partire col braccio che deve elevarsi quindi parti sempre un attimo prima col braccio che va ad elevarsi verso l'alto in questo modo riuscirai a salire in modo simmetrico con tutto il corpo bene fammi sapere come sei andato metti in pratica questo fantastico esercizio perché ti darà dei grandi risultati e ti farà potenziare spalle e muscoli di tirata ciao ragazzi buona giornata e stai con me